Con la duchessa del Sussex e il palazzo diretti a una resa dei conti brutale per le affermazioni di essersi scontrata con i lavoratori. Ecco come si è svolta la saga reale inchiesta sulle affermazioni secondo cui Meghan Markle la vittima di bullismo si sta scaldando con la duchessa del Sussex e Buckingham Palace che si stanno dirigendo verso una brutale resa dei conti. Il Mirror ha rivelato che il reale emetterà una confutazione completa delle accuse chiedendo al palazzo di consegnare una ripartizione punto per punto delle accuse. Punto. Resta inteso che almeno 10 ex dipendenti stanno ora facendo la fila per assistere un'inchiesta indipendente avviata sulla scia delle affermazioni. La revisione delle pratiche di lavoro all'interno del palazzo da parte di uno studio legale indipendente è stata avviata a marzo e le sue conclusioni sarebbero dovute essere rese pubbliche mercoledì. Tuttavia, l'indagine è ora pronta a continuare e potrebbe anche estendersi fino al prossimo anno. Come ha affermato una fonte vicina all'inchiesta, la sensazione è che questo stia andando verso una brutale resa dei conti tra la duchessa del Sussex che si ritiene stia contestando tutto. Accuse etichettate contro di lei. Ma quali sono le accuse e quando sono emerse per la prima volta? Dal famoso scontro tra Meghan e Kate Middleton prima del matrimonio reale alla reazione inorridita di William alle preoccupazioni dello staff, ecco come si è sviluppata la crisi latente. Ciò che Meghan vuole, lo ottiene. Si dice che il rapporto di Meghan con il palazzo si sia inasprito già nel 2017, durante il suo fidanzamento con il principe Harry. Il Mirror ha riferito che le fonti hanno affermato che Meghan era stata dittatoriale, spesso inviando e-mail alle 5 del mattino, secondo The Times. Un assistente anziano si è avvicinato al duca e alla duchessa durante questo periodo per le difficoltà causate dal trattamento del personale. Si dice che Meghan abbia risposto, non è il mio lavoro coccolare le persone. Il biografo reale Robert Jobson ha affermato che i preparativi per il matrimonio di Meghan sono stati così stressanti che Harry è diventato petulante con il personale. Nel suo libro Charles ha 70 anni, ha scritto, alzando la voce a volte, Harry insisteva. Ciò che Meghan vuole, lei ottiene.